story time evoluzione radio buongiorno e bentrovati amici di story time sono veronica e oggi sono qui con max che ci parlerà del suo progetto ma prima come sempre vi ricordo che se volete ci potete trovare su tutti i social come story time ufficiale ciao max è un piacere averti qui con noi ciao grazie dell'invito è un piacere perché oggi andiamo a parlare di sostenibilità che è un tema molto caldo e molto importante anche non so secondo me dopo quello che è successo in questi giorni con tutte le alluvioni insomma è veramente importante puntare sull'ambiente da quello che stai facendo tu mi sembra di capire esatto se in toscana in alta lunigiana sto applicando concretamente la sostenibilità ambientale sociale ed economica allora si può è possibile è possibile purtroppo la terra è bassa e ci sono diciamo tanti aspetti positivi ma chiaramente bisogna metterci tanto impegno tanta volontà si bisogna effettivamente volerlo perché è possibile essere sostenibili magari sono scelte un pochettino più costose all'inizio ma che poi comunque ripagano è quindi quindi assolutamente facciamolo perché forse è già troppo tardi ma dobbiamo cominciare parliamo dell'ecovillaggio che stai realizzando giusto sì dal 2020 ho deciso di costruire o iniziare a costruire questo progetto di ecovillaggio quindi la definizione di ecovillaggio è un gruppo di individui almeno cinque non per forza con legami familiari che decidono di vivere assieme per degli obiettivi comuni quali autosufficienza alimentare energetica ed economica abitativa diciamo un una visione nuova ok che ricalca un po quello che è stato fino magari a 100 200 300 anni fa piccoli gruppi di individui certo che vivevano in questa maniera comunità per dire ma quindi il progetto è nato perché c'erano già delle persone interessate a vivere in questo villaggio o è qualcosa in divenire allora brevemente io prima di arrivare a avere questo a costruire questo progetto dal 2016 a circa il 2020 ho girato in diversi progetti di aziende agricole ecovillaggi progetti di sostenibilità e poi ho deciso di crearne uno partendo da zero quindi mettendomi alla prova dopo chiaramente tutto un percorso di studi di applicazione certo che si perché non si costruisce una realtà del genere dal nulla esatto ma non è stata costruita in un giorno quindi quindi quello che ho trovato dopo una approfondita ricerca di diversi terreni situazioni certo e ho trovato un luogo che nessuno avrebbe probabilmente se non me deciso di sfruttare di utilizzare perché è un luogo che sebbene fino a 70 anni fa era un oasi agricola la valle adesso dove vivo io avevano centinaia e migliaia di individui coltivando ok animali allevando e quindi nel tempo tutto questo si è abbandonato se si è perso e quindi la natura ha ripreso il suo posto ma si è perso per dei motivi scusami non so della del terreno non so ambientali o è stata una cosa dovuta solo sviluppo esatto dovuto allo sviluppo per cui dalle campagne c'è stato tutto questo movimento alle città e quindi questi terreni si sono si sono persi sono diventati incolti e quindi dall'altro diciamo la parte positiva che hanno mantenuto una purezza e quindi non hanno visto chimica non hanno visto sostanze chimiche cosa che purtroppo oggi nel mondo questo questa situazione è sempre più concreta lo vediamo che che le sostanze chimiche usate in agricoltura e non solo creano dei forti danni è purtroppo sì purtroppo sì quindi il villaggio è in costruzione come stanno andando i lavori e soprattutto come sarà questo villaggio cosa potremmo trovare all'interno allora il progetto in fase iniziale quindi dopo una prima fase di installazione di pannelli fotovoltaici cisterne per l'acqua potabile recinti orti frutteti ok perché deve essere completamente autosufficiente il mio obiettivo è per poter essere un obiettivo una dimostrazione pratica di quello che si può fare di quello che può essere e quindi per rispondere alla domanda di prima in futuro questo sarà un luogo in cui ci saranno unità abitative che possono accogliere individui quindi creare effettivamente questo eco villaggio questo ok tanto è vero che diciamo la mia pagina facebook eco villaggio a don centine in costruzione un po un disclaimer nel senso che esatto non sono ancora arrivato all'obiettivo però quello ci stai arrivando è prima o poi sarà pronto poi ci vuole sempre tempo come hai ricordato tu quali sono magari i principali problemi le principali difficoltà che stai incontrando in questo percorso ma le difficoltà sono quelle di capire sia l'ambiente sia come le piante gli animali si relazionano a questo ambiente che in ogni luogo in ogni situazione è completamente diversa quindi un pomodoro coltivato a milano è diverso da un pomodoro coltivato in alta montagna per dire una banalità ma le difficoltà maggiori sono quelle appunto di creare un gruppo perché ci sono varie dinamiche per cui uno non è facile mettersi d'accordo sebbene ci siano gli strumenti per creare dei gruppi quindi la sociocrazia o l'eclipse che si possono trovare appunto nella rive quindi rete italiana villaggi ecologici quindi sono tutti strumenti già applicabili e poi c'è ci sono delle difficoltà nel senso come dicevo prima la terra è bassa e quindi bisogna costantemente ogni giorno porsi degli obiettivi ed essere costanti perché poi quando sei in agricoltura non puoi avere generalmente giorni di vacanza quando gli animali sei sempre lì non puoi permettere quindi c'è bisogno di una forte perseveranza e forza di volontà beh però lo stiamo facendo per essere sostenibili quindi secondo me ci possiamo anche un pochettino impegnare assolutamente sì anche per poter diventare un modello nel senso che dimostrare ad altri individui che tutto questo è possibile anche perché sì esatto anche perché secondo me poi molto spesso ultimamente le persone stanno riscoprendo un po questa vita più diciamo naturale magari molte persone si dimettono e vanno a fare lavori che sono molto più manuali molto più all'aria aperta quindi secondo me è anche un trend tra virgolette che me lo auguro che viene seguito è soprattutto tra i giovani avevo letto di questa notizia che c'era un posto da adesso non mi ricordo in una fattoria proprio come contadino comunque qualcosa del genere si erano presentati in tipo 1300 una roba pazzesca quindi secondo me può essere sarà il futuro io spero perché se no non è possibile immaginare un futuro se non è così assolutamente sì ne abbiamo bisogno più che il pianeta terra con rispetto parlando ma la nostra società umana perché il pianeta terra c'era prima e ci sarà prima di noi dopo di noi ma la specie che è a rischio siamo noi esseri umani beh assolutamente questa secondo me è una cosa che facciamo fatica a capire perché noi veramente pensiamo che se facciamo quello che facciamo facciamo un danno all'ambiente sì però comunque la terra sopravvive come hai detto tu siamo noi che siamo veramente in pericolo quindi facciamoci due domande abbiamo visto tutti cosa è successo in questi giorni cosa succede prima la siccità poi queste alluvioni insomma non è normale facciamoci due domande non è solo maltempo quindi mi raccomando tra l'altro stai cercando proprio collaboratori per realizzare giusto il tuo progetto? assolutamente sì sto cercando diversi diciamo diverse figure che possono essere o dei semplici semplici nel senso volontari quindi tramite il woofing o work away diverse piattaforme che mettono a disposizione degli host quindi delle aziende agricole di progetti che accolgono individui che vanno lì a imparare come poter applicare agricoltura gestioni umane energie rinnovabili per diciamo diversi giorni in forma di scambio vito alloggio quindi tu mi dai una mano io ti do da mangiare un posto dove dormire impari delle cose e poi questa è la prima figura che sto cercando le prime figure poi sto cercando anche principalmente dei collaboratori costanti quindi altri individui con forti intenti che dicono ok max bello il progetto ci credo andiamo in una certa direzione proseguiamo e costruiamo effettivamente questo ecovillaggio chiaramente mettendosi molto in gioco perché è difficile mettere diciamo d'accordo la propria testa figurati 2 3 4 5 figurati assolutamente comunque è possibile in italia e nel mondo esistono tanti ecovillaggi quindi lo possiamo fare ricordaci tutti i tuoi contatti così ti contattiamo direttamente allora potete trovarmi per mail max.furini.it pagina facebook ecovillaggio a docentini in costruzione poi tiktok furini max se non ricordo male ok e poi c'è anche instagram il sito web ecovillaggiadocentin.com a docentini si iscrive con la i di york e basta ti troviamo in qualche modo ti troviamo direi io ti faccio un enorme bocca al lupo complimenti per questa bellissima idea è stato un piacere parlare con te grazie mille grazie veronica grazie a tutti amici di story time anche questa intervista è finita rimanete connessi per altre storie story time evoluzione radio